Buongiorno e bentornati a Medicina 33. Per la prima volta Tennis and Friends, la manifestazione dedicata alla prevenzione, si è svolta a Napoli fra le varie visite gratuite anche quella di visite oculistiche pediatriche, vedremo. E poi sono problemi di cui non è facile parlare ma che influenzano pesantemente la vita e anche la vita di coppia. Stiamo parlando della disfunzione erettile. Pensate che una recente statistica dice che circa la metà degli uomini, fra i 40 e i 70 anni, lamenta un certo grado di disfunzione erettile. Allora, che cosa si può fare? Perché è pericolosissimo andare su internet a cercare delle terapie con il fai da te. Ne parliamo in studio con il nostro ospite che è il professor Gabriele Antonini. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Urologia, Sapienza, Università di Roma. Ma subito, professore, torniamo a noi. Disfunzione erettile. Le cause, lo sappiamo, possono essere sia di origine fisica che di origine psicologica. Come si approccia all'inizio il problema? Beh, innanzitutto è molto importante un attento esame obiettivo del paziente. Si effettuano poi una serie di esami sia ematochimici, quindi un dosaggio del testosterone, che è l'ormone principale dell'aspetto sessuale maschile, e degli esami strumentali, in modo particolare delle ecografie, un doppler delle arterie dei genitali. Dunque, che tipo di problemi possono essere quelli fisici? Ma fondamentalmente ci sono dei fattori di rischio. I fattori di rischio sono, in modo particolare, il diabete, la pressione alta, tutte quelle condizioni, l'ipercolesterolemia, che fanno parte di quella che si chiama sindrome metabolica. In più, lo stile di vita non appropriato, l'uso di alcol, di stupefacenti, e quindi tutti quei fattori che possono determinare un danno vascolare. La disfunzione erettile è non solo un problema locale, ma anche un campanello d'allarme per un problema cardiovascolare che potrebbe insorgere da lì a qualche anno. Ecco, quindi non bisogna sottovalutare questo sintomo? Assolutamente, anche perché molti pazienti che non manifestano il proprio problema vanno incontro a un'ischemia coronarica a distanza di poco tempo. Il problema è che c'è sempre un po' di vergogna di fondo, in qualche modo, che è assolutamente ingiustificata, perché poi è vero che, come dire, la sfera sessuale è una sfera un po' particolare, specialmente per gli uomini, è un problema anche di tipo culturale, però è importante rivolgersi ad uno specialista. Assolutamente, il problema è culturale. Come la donna ha uno specialista ginecologo e effettua i primi controlli perché si prepara alla gravidanza già dai 16-17 anni, anche l'uomo dovrebbe effettuare un primo screening andrologico nella pubertà. Dunque, un altro delle cause potrebbero essere gli interventi alla prostata, giusto? Si stima che in Italia circa 300.000 pazienti abbiano subito un intervento di prostatectomia radicale. Questi pazienti sono dei pazienti non responsivi ai farmaci per uso orale, ma sono dei pazienti che hanno una disfunzione rettile irreversibile che può essere trattata solamente chirurgicamente. Allora, poi torniamo su questo argomento, ma le soluzioni a disposizione oggi quali sono per risolvere questo problema? Ce ne sono tante? Assolutamente. Dal 1998 ricorre proprio quest'anno il ventennale della scoperta del sildenafil citrato, che è la famosa pillola blu che ha rivoluzionato in qualche modo il mondo dell'andrologia. La ricerca clinica ci ha fornito nel tempo altre molecole, il tadalafil, l'avanafil e il vardenafil. Sono dei farmaci che coprono perfettamente il problema della disfunzione rettile nell'80-90% dei casi. Ci sono poi dei pazienti che non sono responsivi a questo tipo di trattamento, oppure che hanno degli effetti collaterali importanti, oppure che assumono dei farmaci per il trattamento di un progresso infarto, dei nitro derivati, che sono controindicati con l'assunzione degli inibitori della fosfodiestrasi 5, quindi di queste molecole che abbiamo appena citato. E in questi casi cosa si fa? Al giorno d'oggi abbiamo la possibilità sia della chirurgia, ma anche di trattamenti di nuova generazione. Ci sono dei trattamenti rigenerativi, siamo un centro che da due anni sta sperimentando il trattamento con il plasma arricchito, cioè un superamento delle cellule staminali che vengono prelevate dal sangue del paziente, vengono centrifugate, si crea un gel piastrinico come viene utilizzato già da circa 20 anni in ortopedia e in medicina estetica, viene infiltrato con delle micropunturine a livello dei corpi cavernosi, portando sangue attraverso un meccanismo di vacuum device, si rigenerano i tessuti cavernosi e l'uomo può di nuovo avere una normale erezione. Ecco, in questo caso non è particolarmente invasivo questo tipo di intervento? È un trattamento assolutamente ambulatoriale che dura circa 15 minuti. Allora, quali di questi di cui lei ha parlato, di questi trattamenti, sono offerti dal Servizio Sanitario Nazionale? In questo momento ovviamente il Servizio Sanitario Nazionale per i pazienti oncologici prevede un piano terapeutico che rimborsa completamente l'uso dei farmaci orali. Alcuni centri di eccellenza, tra cui il nostro, effettuano la chirurgia di impianto di dispositivi endocavernosi, noi in particolare effettuiamo un intervento mini-invasivo, siamo l'unico centro in Europa che in 15 minuti riporta l'uomo a una nuova vita sessuale. Grazie, grazie professore. Grazie a voi. E a questo punto io vi saluto e vi do appuntamento come al solito con Medicina 33. Arrivederci. Grazie a tutti.